E' stato fermato dalla polizia mentre spacciava all'ora di pranzo nei giardini di Via Piave, lo straniero protagonista di un'irruzione in un condominio di corso del popolo la notte del 14 ottobre, quando in evidente stato di alterazione, dopo aver sfondato il portone d'ingresso, aveva suonato campanelli e battuto con pugni e calci le porte degli appartamenti. Con a carico numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti ed irregolare sul territorio nazionale, è stato trasferito al CPR di Ponte Galera a Roma, dove rimarrà in attesa di essere rimpatriato nel suo paese d'origine. Un'altra espulsione riguarda un tunisino balzato agli onori delle cronache mestrine il 17 luglio, filmato mentre urlava, scaraventava a terra sedi e minacciava il titolare di un locale di Via 20 Settembre. Il giovane, con precedenti penali per furto, invasione di terreni, porto d'armi abusivo, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, era poi riuscito a scappare dal centro di permanenza dei rimpatri di Gradisca di Sonso. Rientrato a Mestre è stato fermato nelle vicinanze della stazione da agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.